L'applicazione di RadioEco è disponibile per smartphone su App Store e Google Play. Ascolta la musica e i programmi di RadioEco dove vuoi tu. Leggi le news, le rubriche e le recensioni sempre aggiornate del nostro blog. Cerca gli hotspot Wi-Fi Unipi gratuiti per gli studenti universitari nelle tue vicinanze grazie alla mappa interattiva. Scarica gratis l'app di RadioEco, l'applicazione che non ti lascia mai solo.